secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie a notizia buona ragazzi domani mattina quando staccherò la live stanotte più tardi domani vado anche io la mente a fare il vaccino ok contendi mani vado a fare il vaccino madonna mia madonna mia no questo è devastante questo ma come ha fatto alexa tutto l'erugibile allora è stato dicendo allora troppo poco spazio scusate un attimo riprendere quando una foto una ragazza del mio cazzo ok amore va bene così scherzando twitch aspettate questo qua questo qua è cos'è questo porco dio grazie per il bito bello ciao capellone mi piace il tuo stile dato che ti intendi di barbieri potresti consigliarmene uno ciao maestro luccicante che illumina sempre di più le mie cacate lunanti ma il mattino ma il mottino c'è magneto mottino grazie mille stv grazie mille due mesi grazie mille grazie per il prime grazie mille 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 chi è? si spara eh? attieni ahhh porco dio la giama ronno mai t'affanculo mai t'affanculo che merda questi quattro scivoli la giama ronno la giama ronno ahhh porco dio la banana aperto il clavetto ecco come mangi il maizio? che lo mangi tu con il culo fammi capire allora ti butto a culo il panino fammi capire dove te lo mangi? aperto con la vetta non lo so certo che mi fido ok dovrai morire è un uomo così elegante ah no è monoposto mi sa credo non ho capito è monoposto ah è un posto? non posso salire ah beh allora buon viaggio ho solo un posto ne prenda una lei no non ce l'ho mi dispiace ah non ce l'ha vabbè non ti preoccupi non ti preoccupi va bene sarà per la prossima sarà per la prossima non si riusciamo mai a beccarci un po' insieme che lei eh guardi se vuole scusi eh se vuole io il numero social omide posso metterci qualche volta ok certo le mando un messaggio così se lo salva ok vai buonasera maestro l'altro giorno l'avevano dato per morto dopo l'ho visto in live e il mio cuore si è ripreso lei il vero maestro grazie grazie mille che stavo dicendo? no no a te è nata la gente che diceva che ero morto eh comunque sta da dove viene straccio pagliaccio? dai arrivi 50 oh ma che sta oh vedi quello che vi dicevo? vedete? vedete quello che vi dicevo? vedete? 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 ah ecco ah